In Italia nei primi sei mesi dell'anno le denunce di infortunio sul lavoro sono scese di quasi il 25 per cento, conseguenza della prolungata sospensione di tante attività produttive. Anche in Lombardia si è registrato un calo di quasi il 15 per cento, ma è esploso con crescita più che doppia rispetto al dato nazionale il numero degli infortuni sul lavoro nel settore della sanità e dell'assistenza sociale, dai 1816 casi dell'anno passato ai 9163 di quest'anno più 404 per cento. I dati diffusi dall'INA, analizzati e commentati dalla CGL Lombardia, rivelano come l'emergenza coronavirus abbia esposto drammaticamente in prima fila il personale sociosanitario all'insidia di infortuni o malattie. Nella nostra regione inoltre i morti sul lavoro da un anno all'altro sono raddoppiati, da 72 a 145 di questi tre quarti, ben 113, sono dovuti alla pandemia. Anche qui i decessi riguardano principalmente il personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, quasi l'80%. In provincia di Sondrio, su tre morti sul lavoro, nessuno nello stesso periodo dell'anno passato, uno è dovuto al covid. Nel nostro territorio l'andamento infortunistico, al pari del resto della regione e del paese, è stato in discesa, dai 1193 casi del primo semestre 2019 ai 1132 del primo semestre 2020. Il covid è inciso pesantemente, con 415 infortuni, il 36 per cento del totale. Di questi ben 320, il 77 per cento, hanno riguardato donne. Dopo Mantua è il dato più alto a livello lombardo. Un'incidenza così forte si collega alla prevalenza di occupazione femminile nei settori e nelle professionalità più colpite, come infermiere e operatrici sociosanitarie. Quanto alle fasce di età, 55 gli infortunati dai 18 ai 34 anni, 139 dai 35 ai 49, 214 dai 50 ai 64 anni, 7 oltre i 64. Sulle cause di un dato infortunistico tanto drammatico, sebbene la pandemia sia stata tanto inaspettata quanto aggressiva, osserva CGL Lombardia, si ripropone il tema della prevenzione sanitaria e, più in generale, della tutela delle condizioni di salute di lavoratrici e lavoratori. Si conferma, conclude il sindacato, quanto risulti determinante un serio lavoro di applicazione e di costante verifica dei protocolli di prevenzione covid-19 e quanto il lavoro dei comitati debba essere esteso per contenere il diffondersi della pandemia e i rischi per la salute dei lavoratori.